Le ultime curve, allora Maglio Di Stefano, iniziamo subito da quello che sta sotto l'analisi di tutti gli esperti, presentazione della squadra in pectore di governo da parte di Di Maio, 17 persone, tanti professori, tanti tecnici, solamente due politici fedelissimi di Di Maio, Fraccaro sarebbe ministro per i rapporti col Parlamento e Bonafede guarda Sigilli, non ci si aspettava forse un po' più di militanza? No, credo che sia una scelta invece molto giusta e molto responsabile da parte di Luigi Di Maio, perché ovviamente l'obiettivo è far sì che il Presidente della Repubblica, che ha poi in realtà l'onere di individuare chi dovrà formare il governo e quindi poi anche di accettare o comunque di favorire la creazione tramite la selezione dei ministri, deve poter riconoscere in quei ministri qualcuno che possa rappresentare il Parlamento intero, quindi noi non siamo quelli che piazzano gli Alfano, le Lorenzin, gli uomini che servono a tenere la coalizione, noi siamo quelli che cerchiamo di favorire un governo rappresentativo di tutto il popolo italiano e anche dei partiti quindi che sederanno in Parlamento. La domanda che ne abbiamo fatto ieri infatti è stata agli altri partiti con questi nomi perché no? E l'obiettivo è appunto avere una larga accettazione della squadra di governo e anche del programma, che è un programma che ha dentro un po' tutto quello di cui tanti partiti hanno parlato in questi anni, come loro proposte fondamentali, noi le abbiamo da tanto tempo ormai, quindi crediamo che si possa convergere su un programma, anche se l'obiettivo, anche se l'obiettivo ha 24 ore dal voto, per noi rimane quello di vincere da soli, però quello è uno scenario in più. Qualora arrivasse qualche perché sì, perché chi può dirlo, insomma Di Maio ha detto che dal 5 apre a tutti sulla base di contratti per trovare un accordo sui punti, qualora arrivasse qualche perché sì ai vostri punti, ai vostri nomi, 17 ovviamente sono tantissimi, sono comunque nomi negoziabili? Cioè sareste pronti a cedere qualcosa a qualche compromesso nel senso più alto del termine ovviamente? Qualche apertura? Se il governo viene incaricato nel Movimento 5 Stelle di formare il governo, gli uomini sono quelli che abbiamo già presentato per un semplice motivo, perché altrimenti avremmo scelto uomini di partito, come lì stesso ha detto. Abbiamo scelto queste persone perché ovviamente sono in grado di portare una competenza elevatissima al Parlamento, sono fuori a logiche di partito, non rispondono a nessuno perché non sono uomini di partito e quindi sono le persone giuste per portare avanti un programma che è preciso e globale, ha un insieme di riforme che può aiutare questo Paese, quindi no, i nomi non sono negoziabili. Io dico questo, la sincerità, l'onestà anche rispetto alla propria posizione, perché altrimenti è uno nessuno centomila. Si sono presentati in discontinuità, gli elettori li vogliono in discontinuità, ebbene devono sapere se sono pro o contro l'euro, pro o contro i vaccini, pro o contro la buona scuola, è tutto qui. Cioè con questo abito quasi governativo che comunque ambizioni di governo si diventa un po' meno intransigenti? Io capisco la necessità di assimilare le proprie condotte a quelle altrui, ma la differenza sostanziale, cara collega Rotta, è che noi daremo agli italiani la possibilità una volta tanto nella storia di scegliere con il loro voto un programma preciso, una lista di ministri e il Presidente del Consiglio, ovviamente concertando con il Presidente della Repubblica, che ci mancherebbe altro, noi la Costituzione la rispettiamo, non vogliamo demolirla come avete fatto voi, che i nostri candidati ministri abbiano avuto una visione politica su un determinato provvedimento, viva e Dio, vuol dire che sono esseri pensanti, noi non cerchiamo delle persone che siano cani scodinzolanti dietro il Movimento 5 Stelle. Mi lasci parlare Rotta, mi lasci parlare e poi le rispondo, se lei mi lascia parlare io le rispondo, altrimenti poi dovrò parlarle sopra ogni volta che lei parla, scelga lei la linea che dobbiamo tenere in questi minuti di programma. Allora facciamo così, io la lascio parlare e le lascio parlare a me, ora le rispondo anche a questo, i nostri candidati ministri, come dicevo, hanno le loro visioni ovviamente, ma hanno un programma, che è il programma che devono rispettare e portare avanti, perché sennò sarebbero appunto l'esecutivo di un programma. È evidente che nel caso, ad esempio, della Buona Scuola che lei cita, ieri stesso il candidato ministro in conferenza durante la presentazione ha detto una cosa molto chiara, ha detto io sono solo consultato un anno prima che si proponesse poi la legge per partecipare al cantiere per la parte sui laboratori, quello che è uscito nella legge è l'opposto di quello che andavamo programmato insieme, di conseguenza lui rinnega totalmente la Buona Scuola e se vuole la risposta precisa il Movimento 5 Stelle cancellerà la Buona Scuola, perché è una porcheria che ha distrutto la vita a centinaia di migliaia di persone, di insegnanti e di studenti soprattutto, che sono al centro del problema. Quindi il concetto è il nostro programma è pubblico, è consultabile e è quello che i nostri ministri farebbero. Giuliano non è sempre stato così netto, insomma, nella posizione di conferenza. Ma l'ha detto ieri durante la presentazione, ma cosa volete di più? Che cancelli il passato? Ha detto ieri per me la Buona Scuola va abolita, punto, questo è. E' quello nel nostro programma d'altronde, quindi quello faremo. Comunque la cosa simpatica di questa storia è che il PD è tanto consapevole di aver fatto arrabbiare proprio tutti che per attaccare qualcuno Renzi dice è un mio amico. Cioè questo è l'assurdo. Il fatto che abbia partecipato al laboratorio del PD, amen, vuol dire che una persona competente ed esperta era stato convocato anche dal Partito Democratica. Noi va bene, così ne vogliamo gli esperti. Abbiamo avuto poc'anzi Laura Castelli, ospite, abbiamo ritoccato il tema sul referendum sull'euro, l'uscita dall'euro e ancora una volta è stata, ha detto dipende, ancora una risposta chiara, io confermo che non la potrei dare, dipende dalle condizioni. Lei una risposta chiara a tal proposito ce l'avrebbe? Qualora si facesse, Di Maio ha detto in estrema raccia il referendum sull'euro, lei cosa voterebbe? Sì o no? Io voterei per l'uscita dall'euro, però qua il concetto non è cosa vota di Stefano o cosa vota Di Maio, qui il concetto è che è giusto dire dipendere dalle condizioni, perché quando si programma una soluzione politica, che sia rimanere nell'euro, uscire all'euro come qualunque altra soluzione politica, bisogna vedere in che condizioni lo fa, allora noi siamo consapevoli del fatto che dovessimo andare al governo, le nostre ricette economiche espansive, quindi in discontinuità con l'austerità che è stata introdotta da Monti e portata avanti anche fino a Gentiloni, sarebbero il giusto modo per riavviare l'economia italiana e soprattutto la capacità di contrattare l'Unione Europea per far cambiare i vincoli come il fiscal compact, il pareggio di bilancio che abbiamo in Costituzione e tutte le norme che ci vincolano, modificandole ci possono permettere di rimanere nell'euro, qualora queste condizioni invece non variassero e allora si dovrebbe ragionare anche sul permanenza o meno nell'euro, quindi è giusto dire, non è ambiguità dire vediamo le condizioni, perché è ovvio che sarebbe da stupidi pensare di sapere come andranno le cose fra un tot di mesi quando potremo applicare le nostre riforme economiche, quindi vediamo cosa si riesce a fare andando al governo ovviamente. Però per esempio di Stefano il candidato in pectore ministro dell'economia a Roventini è stato tranchant su questo, fuori dall'euro lui ha detto non se ne parla, cioè non dipende dalle condizioni, vedremo, prego, è il candidato del suo movimento. Certo, perché lui sa il programma che vuole portare avanti e quindi sa che quel programma ci permetterebbe di rimanere nell'euro, guardi se ascolta i tre ministri coinvolti più in queste dinamiche, quindi sviluppo economico, ministro dell'economia e finanze, tutti e tre sono convintissimi che servano misure espansive, quindi misure che ci facciano investire anche a debito, quindi è ovvio che sono dell'idea che l'osterità non vada bene, ma il problema dell'euro non è l'euro in sé, sono le condizioni che vincono l'euro, quindi l'osterità, quindi anche la gestione economica che non ci permette di investire denari nel far ripartire l'economia, attuando queste riforme puoi tenere anche l'euro, quindi è una risposta assolutamente in linea con quello che abbiamo detto, per noi il referendum è l'ultima condizione attuabile possibile, ma è l'ultima. Grazie.